Ciao ragazzi, ciao ragazze top, benvenuti di nuovo vlog, come vedete oggi siamo tornati ai nostri lettini la spiaggia è bella sì, ci sono le persone però si sta una meraviglia l'acqua è uno splendore perché ieri era un pochettino troppa gente, era un po' movimentata la sabbia ma oggi è cristallina siamo in primissima fila, vi faccio vedere qua siamo noi qui siamo noi lì c'è il mare bello, bello cristallino come potete vedere mio marito sta sistemando abbiamo cambiato i teli giustamente perché è già da più di una settimana che li stavamo usando quindi per lui coca cola per me hello kitty mi ero dimenticata di farvi vedere il nostro ombrellone, senza il quadro delle persone lì ho preso il coso dei solari e qua comodissimo ragazzi cioè meglio di così che si vuole top e yeah ciao amici allora ho fatto una bellissima nuotata con mio marito siamo andati fino agli scogli oltre a lui oltre a lui era stanco però ve l'ha già detto nel suo vlog quindi non ve lo sto a ripetere ho fatto un altro shopping perché io ho preso sapete questi teli qua ma è bellissimo c'è l'albero della vita fatto con i cuori l'elefante con la proposta in su che comunque è bello sono simboli molto belli e niente ragazzi adesso lo metto qua prendo un pochettino di sole mi spalmo la crema l'ho già spalmata in albergo prima di scendere perché so che va messa 20 minuti prima però quando si fa il bagno ha ogni applicazione ovviamente mi sono aspettata che ho aspettato di asciugarmi adesso me la riapplico penso che comunque da domani porto l'acqua bronza anche perché sono comunque sto diventando già nera quindi va bene adesso mi tiro sui capelli in modo da abbronzare le spalline penso che l'ho già abbronzate non lo so no qua si vede forse un po' non lo so I don't know allora ragazzi adesso mi mangio una fettina di melone che mi sono portata questo qua bello fresco una faccio il pranzo poi se mi viene fame ho anche la mia classica barretta la sua cuota che sono su scioglie mi piace questo quanto sono comodi questi sacchetti della cookie apri chiudi il melone rinfresca fa bene comunque è tra le frutta le frutta la frutta che comunque posso mangiare l'ho già mangiata diverse volte e non non mi falso la diecinia assolutamente e si vede che è fresco questo è portato da milano ragazzi è buonissimo non mi ricordo se da Estelunga o al Tigros non me lo ricordo sono molto buono oggi non c'è neanche una nuvola adesso vi faccio vedere sta una favola adesso comunque orario di pranzo la gente comincia a andare su tanti vanno proprio via perché tanti vengono la mattina e se ne vanno si vanno a fare il riposino e scendono verso le 4 4 e mezza anche 5 e poi se ne tornano a casa perché noi stanno qua facendo la giornata quando io vado su Borcon a fumare vedo che alle 8 rientrano tanti perché se vieni giù alle 5 fai 5 6 7 3 ore esatto ci vediamo dopo ciao allora ragazzi volevo far vedere il cielo come è sereno e anche le mie gambe qua non c'è una nuvola pazzesco pazzesco io sono rilassata al top e all'oelea ragazzi ho proprio mi addormento praticamente cioè adoro ragazzi mi stavo dimenticando di far vedere il mio costume allora è a triangolo fatto così con sfondo nero e cuoricini è molto carino questo qua l'ho fatto già ho realizzato insieme ad altri costumi che voi non avete visto per Shein l'ho già realizzato per loro il video e gliel'ho mandato la parte di sopra che è così appunto con l'accetto dietro ecco questa è la parte di sopra che con l'accetto così faccio così almeno copro la persona che c'è qua questo è così non è la perizoma ragazzi stiamo venuti qui adesso dalla spiaggia guarda che carino ho sul mio cappello bandana che non so com'è dietro guarda si vede dalla vetrina la vetrina eh se non stai qui si vede vabbè ce l'ho sia rosa che l'ho messo rosa ovviamente che nero infatti si è allaccia tipo bandana è carinissimo l'ho portato so se è anche nero però mi sembra sottolosa però si è più bella più bella siamo praticamente scappati dalla spiaggia perché fa troppo caldo si stava da di oggi ma un caldo assurdo e stiamo andando ragazzi a prendere un pezzo di focaccia perché ci sta ci sta tutta ma ce ne è questo no c'è sto l'istorantino c'è sta pizzeria qua che è nuova che profumino di pizza ragazzi così cosa vabbè qua c'è la lavanderia dry pelucco e andiamo a questo panificio della ragazza che mi segue praticamente e adesso posiamo tutta la roba teniamo solo i teli e facciamo la jacuzzi perché ci freschiamo siamo lì si sta bene comunque adesso sono quasi le 4 era stamattina alle 9 e mezzo ciao ciao sta facendo i complimenti per la crossata al pistacchio che la compra da tipo due o tre giorni fa e l'ha mangiata solamente ieri mamma mia ma è tutto buonissimo eh che sto permesso la ragazza guardate ragazzi facete qua c'è c'è il paradiso delle focacce praticamente questo è col pesto questo è col pomodoro con le cipolle pinaci focaccia normale focaccia direcco focaccia a formaggio pizza pizza con le olive dolce di ogni tipo baci di amatiganti fiammoli craft anche questa è buona però quella di corbongiola non c'è quella di corbongiola quella di solito si fa più weekend è quello ragazzi siamo arrivati per la via tutti questa qua era la nostra camera dell'anno scorso si ma loro non lo vedono perché lì il cavalletto è qui abbiamo messo il cavalletto ragazzi faremo vedere dai faremo vedere vediamo cosa si vede vediamo un attimino se si vede si si dovrebbe vedere credo si si vede si vede ciao questa qua è la gucci più grande che abbiamo provato si è molto grande effettivamente per questa c'è anche delle cose che zampillano alla musica e la musica tutti la temperatura che si regola non lo sapevo che su tema su tema la musica assolutamente si è calzata la temperatura non lo so ragazzi comunque non lo so perché io in spiaggia vi ho fatto vedere il mio il mio costume però ho dovuto fare un pezzo in spiaggia un pezzo nell'acqua non si è capito niente nel dubbio lo faccio vedere qui adesso adesso perché c'era la gente ritornevo la gente quindi ho dovuto farlo in memoria ve lo faccio anche adesso e quelli ve li lascio insomma ecco qua uno solo che si mi alza ma per l'acqua a questo è un costume tutti li avete già viste faccio il cuore con i cuori con filamenti di una mano invagila no amore no amore c'è il massaggio la schiena lascia così lascia così ti prego bellissimo wow è freddo bellissimo bellissimo vedi là vedi là ma me sto ho fatto anche il cuore ma che bello è così te hai fatti da madre qui c'è il massaggio la schiena per esempio è il massaggio la schiena si wow che bello ragazzi spazio ecco no vabbè bellissimo veramente abbiamo un ombrellone che ci cofre almeno non siamo esposti al sole mamma la mia lì è giocita ci sono figli qua con freddi no 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 senti la temperatura della fessa acqua è la più super saldata amore ma che bello che meraviglia ragazzi ma di qua c'è freddo no non c'è freddo no c'è freddo è sì ma amore questo è è da tre l'argo l'argo non c'è freddo ma lo conosciamo anche come freddo ti massaggia al il fratello meraviglia meraviglioso meraviglioso quello è comodo quello lì è comodo vediamo questo questo mamma mia questo è come quello è più comodo quello è comodo no questi lì sono comodi no io so questo quello ah a tempo non lo so non lo so come vuole ragazzi si sta ragazzi si sta una favola qua ragazzi si sta una favola veramente è stupenda la jacuzzi adoro cioè pop fantastica e noi adesso andiamo avanti ancora un po guarda quante bollicine adoro molto belle ci facciamo un po di foto fotine così sono belle le jacuzzi e poi andiamo avanti a rilassarci perché è rilassantissimo accendiamo anche la musica così a meno non fa copyright qua ragazzi che bello farsi la doccia rigenerante allora voglio specificare aprire parentesi perché veramente avete stancato onestamente io sono venuta qua con un bordello di creme di protezione ho anche questa dell'equilibra e questa non è una cosa che tra buttano dietro così con aloe e cocco spf 30 poi ho quella protezione 50 quella della huaian che costa 15 euro sempre protezione 30 e poi ho i dopo sole ho le lozioni anche quelle che leniscono ho comprato anche un'altra quella che che fa ma c'è un sole potente ragazzi se io vi dico che sono stata all'ombra e ho messo la protezione e ho preso tutto questo colore cioè voi non mi credete però a me onestamente non mi interessa però voglio specificare che non sono stupida so che la crema ci vuole serve è necessaria soprattutto mio marito io la sto proprio spalmando quantità industriale sulla fronte e poi veramente piantata di dire cavolate perché è andato dal dottore gli ha detto chiaramente che è una scottatura solare e è andato per ben due o tre volte la visita dal dermatologo è stata fissata a settembre perché non gli ha dato l'urgenza se c'era urgenza il medico diceva corri e lo facevamo a pagamento invece è stata fissata la prima data a settembre e la farmacista anche che è dottoressa gli ha detto guarda che quella è una scottatura non ti va più via devi usare il laser o ci sono delle creme qualcosa fanno però e niente quindi c'è veramente una certa effetti anche pesanti comunque adesso mangiamo e poi vediamo un attimo oggi abbiamo fatto un sacco di cose sono stanchissime ragazzi comunque il mare si è bello è rilassante ma stanca anche mangiamo sul letto ragazzi si come due bestie non importa qua c'è l'acqua bella fresca e mangiamo quindi buon appetito buon appetito amore buon appetito amore e ci vediamo dopo ciao ragazzi allora abbiamo mangiato abbiamo fatto tutto dovevamo fare ho montato tutti i video l'ho caricato ho montato anche questo di video situazione tragica e assurda allora io non ho mai avuto le gambe così nere ma beh sì io non lo so è stato un attimo una frangente che un pezzo di gambe da sotto il ginocchio più o meno metà metà stinco amore sì dal ginocchio al piede un po' meno nel ginocchio insomma anche un po' il coro del piede mi sono ustionata c'è assurdo adesso vi faccio vedere la situazione è veramente pazzasca questa situazione c'ho l'asciugamano con sopra il ghiaccio è veramente ragazzi non ho parole non ho parole situazione tragica è una situazione tragica veramente perché non so più cosa fare mi spalmo di crema sto all'ombra non lo so cioè veramente sembra che io mi metto lì senza protezione che sto al sole no ragazzi è assurdo comunque ci siamo divertiti tantissimo ci siamo rilassati lì sentivo frescura ma dopo la doccia ragazzi è venuto fuori praticamente un fuoco un fuoco nelle gambe praticamente ho messo almeno 5 tipi di creme diverse dopo sole lenitiva quella all'aloe quella che ghiaccia c'è non so più cosa fare adesso comunque con l'asciugamano e il ghiaccio sopra diciamo che va meglio ho dovuto spegnere ricondizionata perché se no mi faceva troppo freddo e niente stasera va così il vlog e la situazione veramente tragica e vabbè pazienza io spero che il vlog vi sia piaciuto che vi è venuto in compagnia vi mi sono fatta vedere in costume adesso sinceramente mi interessa non ho mai detto di essere magra sono dimagrita tantissimo ancora devo dimagrire quindi così mi sono mostrata perché sapete che io ho problemi non ne ho e è nulla mi voglio godere la vacanza veramente non lo so domani andrò in pantaloni in spiaggia cioè veramente non so più cosa fare sono disperata sono disperata ragazzi non so più cosa fare è una situazione veramente disastrosa vabbè vi saluto e vi auguro una buona serata ciao